Ciao a tutti, mi chiamo Virginia, ho 28 anni e ho fatto il percorso di Energy Restart a giugno del 2022 e ho deciso di fare questo percorso perché in quel periodo, me lo ricordo come se fosse ieri, stavano arrivando i primi caldi e l'avevo sentito particolarmente quell'anno, ero molto molto stanca, ero perennemente stanca, in maniera strana anche per i miei standard, perché sono una persona molto attiva. Continuavo a fare spuntini, a prendere caffè, ma non mi tiravo mai su. E oltre a questo avevo un ciclo irregolarissimo, avevo provato varie cure, ma funzionavano per poco e non erano assolutamente risolutive. E avevo anche una dermatite, che i medici avevano identificato come una dermatite da stress, ma che fondamentalmente non si capacitavano neanche loro del perché avessi questa problematica. Quindi il mio unico obiettivo in quel momento era stare un po' meglio, almeno a livello energetico, perché mi ero resa conto che mangiavo tanto pane, tanta pasta, e che forse poteva essere quella, una delle ragioni per le quali non stavo tanto bene. Effettivamente poi è stato così, perché nel percorso poi con Chiara abbiamo visto che, purtroppo, il glutine è veramente, in tantissimi alimenti, una causa di allergie, intolleranze, e nel mio caso, molto probabilmente, era proprio un'intolleranza al glutine. Quindi quello che è successo nell'arco, veramente delle prime settimane, già nelle prime due, intanto mi sono tornate le energie, subito. Quindi io riuscivo a fare i tre classici passi al giorno, colazione, pranzo e cena, senza dover fare ulteriori spuntini, e stavo già bene. Non avevo bisogno di prendere caffè, fuori pasto, stavo bene già, ero già energetica. Per quanto riguarda la dermatite, pure quella, nell'arco di quattro settimane, cinque, è completamente sparita. Quindi era effettivamente qualcosa che mangiavo. Ad oggi, dopo più di un anno, posso dire che mi si è regolarizzato anche il ciclo. Non è stata una cosa immediata, mi ci sono voluti qualche mese, però ad oggi si è regolarizzato pure quello. Quindi era tutto probabilmente correlato a ciò che stavo mangiando. Quindi questo cambio di alimentazione è stato per me fondamentale, vitale praticamente. È stata una rivelazione perché io mai mi sarei immaginata che l'alimentazione potesse fare così tanto. su un organismo, ma realmente ciò che mangiamo è ciò che siamo, ciò che diventiamo. Quindi l'ho potuto notare su me stessa. Cioè, il cambiamento è stato veramente tanto, in poco tempo, per cui l'ho trovato bene, utile, ma veramente è stato vitale nel mio caso, perché mi ha risolto veramente delle problematiche che non riuscivo a risolvere con farmaci o con modi diversi. Quindi è stato veramente una rivelazione. Poi ciò che mi è piaciuto in realtà, di più del percorso, è stata la presenza costante di Chiara, perché ovviamente mano a mano che vai avanti, ti vengono dei dubbi banalmente, avere una persona con cui confrontarsi è fondamentale. Oltretutto è stato molto carino avere a disposizione materiale di approfondimento, ma delle ricettine già fatte, tra l'altro super gustose, veramente buone, quindi non le classiche cose da dieta scondite, tristi, anzi, veramente buone, gustose, che ti viene veramente voglia di prepararle, perché sono semplici, e di mangiarle. Per cui, se posso consigliarlo, veramente fatelo, cioè investite questa somma perché vi ritorna indietro il doppio, il triplo, il quadro, proprio veramente è inestimabile il valore del percorso. Quindi fatevi questo regalo, pensate a voi.